respiriamo insieme respiriamo ci vorrebbe qualche maestro di yoga io non me ne intendo però respiriamo e rilassiamoci una buona giornata una buona giornata a tutti i milanisti a chi ha il milan nel cuore ben ritrovati che giornata che giornata ragazzi intanto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se lo avete ancora fatto iscrivetevi in questa zona sul logo di milanello un grazie ai vecchi un benvenuto ai nuovi e chi non si iscrive oggi ti fa napoli e chi non si iscrive in questo video non è ancora iscritto ti fa napoli attivate la campanella scherzi a parte ci conto lasciate un bel like e commentate numerosi con il vostro punto di vista ragazzi sarà una giornata lunga molto lunga la vediamo insieme ovviamente a 360 gradi con passione con milanismo con speranza con tifo forza milano oggi tutti insieme c'è bisogno di tutti di quelli che andranno allo stadio si faranno sentire anche per noi io farò telecronaca qs us va se non potete vedere la partita la vediamo tra virgolette insieme e vediamo un po tra poco appunto se ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda la formazione e da una parte e dall'altra bisogna scendere in campo con le spalle indietro il petto in fuori di determinazione ricordare che siamo il milan rispetto dell'avversario senza illudersi dopo lo 0 a 4 di una decina di giorni fa in campionato e cerchiamo di sfruttare il fattore casalingo ci sarà lo stadio con una coreografia speciale bellissima facciamoci sentire dal primo all'ultimo minuto perché sono nella casa del milan e dei milanisti e in questo caso non dobbiamo fargli trovare il tappeto rosso più tardi ragazzi torniamo ovviamente sulla partita con le formazioni con tutto il colore il calore tutto quello che c'è ma visto che è molto lunga arrivare stasera cerchiamo di distrarci anche con altri temi e rispondo in questo momento alle vostre domande sulla community milanello risponde la rubrica più scopiazzata di youtube la prima domanda di carlo se l'idea del milan è puntare su un giovane alla scamacca io spenderei piuttosto su cabral della fiorentina o su uai del montpellier che ha segnato ha scritto anche oggi cioè nella giornata di domenica che ne pensi allora scamacca scommetto lo puoi portare a casa anche in prestito scamacca non si deve ambientare in italia lo ritengo personalmente superiore a cabral su uai a me piace piace anche al milan il costo in questo caso te lo devi pagare magari anche scamacca l'ha finito di pagare ma credo che per l'estate possa essere un'operazione vantaggiosa proprio per la formula il problema di uai su cui il milan c'è credo da novembre a dicembre è che se andate a fare qualche ricerca su google uai extracampo ma tra la fine di questo video ha avuto qualche vicenda un po discursa quindi un profilo caratteriale particolare dj devix mi chiede ma milencovi savi c'è davvero possibile per noi stavolta inserendo rebic in una trattativa o c'è il solito ostacolo ingaggio su savi ce ne parliamo anche dopo perché ci sono anche altre domande di di rebic sappiamo l'abbiamo dato in esclusiva poi qualcuno ha scopiazzato anche qui che c'è un interesse della lazio vediamo se si può imbastire una trattativa ne parlo però tra poco rimanete sintonizzati perché ci sono anche altre domande con altre sfaccettature quindi facciamo una risposta all inclusive emanuele quest'anno ho visto un pioli un po presuntuoso innanzitutto quando prendevamo 3 4 5 gol a partita lui sostinava non cambiare nulla il fatto di impuntarsi su certi giocatori lasciarne fuori altri infine la gestione del turno vero ogni volta sempre troppo massiccio tu cosa ne pensi penso anch'io che quest'anno tra i tanti errori della società dei giocatori sono stati tanti errori anche di pioli hai elencato tu anche scelte un po poco lineari nel senso pobega gioca e per me non ha fatto male però non giocava titolare da quasi tre mesi e non vedeva il campo da 7 8 partite Franks non ha più visto il campo ad lì figuratevi come dici tu non si cambiava o poi si cambia si ricambia ancora poco umile perché sapevamo tutti che bisognava giocare con i tre centrocampisti credi che riusciremo ad entrare in champions l'anno prossimo visto l'andazzo la lazio non sembra perdere colpi e la roma di bala che avrebbe potuto farci molto comodo ma dipende da noi sabato contro bologna sarà durissima durissima abbiamo lasciato in giro punti per strada che ci mangiamo le mani io dico che dobbiamo arrivare in champions la lazio secondo me rischiamo di non prenderla più anche perché non ha le coppe e la roma non capisco come possa essere sopra noi lo capisco perché abbiamo buttato via tanti punti però io spero di arrivarci spero non dico non voglio fare pronostici però alessandro ale perché non prendiamo uno come amrabat sarebbe stato tutto naturale di che si amrabat costa e adesso lo vuole il barcellona marinoschi non sarebbe stato meglio le cdk con il senato del poi sicuramente sì poi braime leao saranno al 100 per cento marco direi direi che direi di sì dai e poi vista la partita contro l'empoli o per fazzini ci farei un pensierino giovane italiano mi sembra davvero molto buono magari con un pacchetto unico con qualche contropartita da fare per baldanzi magari si potrebbe fare come si è fatto con adri riprendere lasciarli un anno allora fazzini mi ha entusiasmato purtroppo baldanzi mi ha dimostrato un senso del gioco pazzesco però se giochiamo col terzo struttocampista baldanzi rischi di non avere una collocazione ideale detto che però è uno così secondo me un posto lo trovi sempre su fazzini mi piace molto beh magari bloccarlo non sarebbe affatto male complimenti all'empoli che è sempre giocatori interessantissimi tra cui anche parisi come riserva di te o non è meglio valere a parametro zero carlos augusto del monza scrive giuseppe come centrale baschi rotto un tt al posto di gabbia bisogna prendere uno al posto di gabbia che credo possa andare via nonostante la questione di ste perché vuole giocare potrebbe portare anche qualche milioncino mediamente abbiamo visto insomma si può fare un upgrade anche nelle alternative come come gabbia appunto baschi rotto sta facendo molto bene un tt un giocatore esperienza che almeno non dispiace affatto e se ne era già parlato nelle scorse settimane per quanto riguarda valeri io direi di sì anche perché noi dobbiamo fare difensore terzino un centrocampista titolare un esterno di destra una punta barra due bisogna fare tante cose quindi in qualche posizione devi risparmiare valeri a zero italiano perfetto per la questione liste giocatore anche che ha gamba spinta secondo me è perfetto il problema è che ci sono tanti club su di lui e lui punta a vendersi anche la migliore offerente carlos augusto mi piace molto moltissimo per me per caratteristiche sarebbe un perfetto viceteo ha un anno di contratto ancora con il monza che quindi io lo cede lo perde a zero chissà mai che si possa avere un regalino al monza però significa che poi devi tirare la coperta e scoprirsi dall'altra parte nel senso che spendi per carlos augusto hai un po meno budget per altre zone poi sapresti dirmi quando rientra ibra e chi può essere l'attaccante più creditato al posto di un inguardabile vergognoso righi dello stesso ibra grazie ibra lo avete visto lo storico dice che deve rientrare una data però a un punto di domanda a quell'età io credo che almeno due settimane ancora starà fuori se non tre questa è un'ipotesi ma bisogna vivere molto la giornata o alla settimana sull'attaccante è difficile rispondere ci sono 4-5 candidature io dico che quello forse più facile alla fine è scamacca proprio perché te lo puoi prendere anche con la formula del prestito nei giorni scorsi si parlava di prestito con diritto a 18 una formula molto vantaggiosa il prestito se sentono prestito dalle parti di viadro rossi sono molto attenti lorenzo zio come faranno con 50 milioni a prendere un attaccante titolare un centrocampista terzino sinistro un centrale un estero destro lo devi spiegare ottima domanda allora 50 milioni e il budget che verrà stanziato come lo scorso anno 50 milioni però bisogna a questi 50 aggiungere quello che tu fai con il player trading e credo che finalmente avremo degli scossoni dei movimenti delle cose da scrivere alla colonna player trading mi riferisco ad esempio a Rebic nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra il suo entourage parli ramadani e il Fosburg Rebic se va lì un po' di milioncini di riporti a casa Orighi preso a zero secondo me Orighi sarà plus valenza in estate ed è uno che comunque ha mercato in premier ha mercato magari anche in Turchia e anche qui poco che ti prendi comunque plus valenza sarà qualcuno riderà sicuramente chi te li dà Orighi è uno che ha ancora considerazione è uno che secondo me comunque ti può portare almeno quegli 8 milioni di euro lo dico almeno se non 10 perché poi in Inghilterra c'è un mercato che viaggia su binari diversi con 10 milioni ti prendono lo sconosciuto riserva dalla riserva della riserva Orighi ha un curriculum a uno storico soprattutto in Inghilterra proseguo Messias sarà bilancio a 3 o 4 secondo me potresti anche provare a piazzarlo sono altri 3 o 4 vi raccontavo ieri di De Ketelare con il Leeds che sembra orientato a riprovarci in estate risparmierai anche un po' sugli ingaggi su Baccaio Co su Dest che erano 3 e mezzo risparmierai su Ibra che non continuerà per il resto potresti fare anche scelte dolorose mi riferisco ad esempio a Povega piuttosto che a Colombo magari tenendo delle recompre insomma diverse Balloturé è un altro che secondo me a 2 o 3 milioni può andare via mettendo tutti insieme soprattutto facendo un po' di player training non ne hai 50 magari arrivi in qualche modo a una settantina di milioni di euro e poi la punta la puoi prendere in prestito il terzino lo puoi prendere a zero e spendere il resto negli altri reparti insomma in qualche modo si può fare se tu parti comunque con un tesoretto da 45 che distanzia la società con lo scorso anno di cosa ne puoi fare puoi prendere anche un altro giocatore in prestito con diritto ecco poi riusciremo a fare partire Orighi e Rebic io credo di sì anche Graziano critica un po' Pioli questa non è combinata e dice possibilità di vedere Scamacca Almina mi chiede Riccardo sì ce ne sono e io ripeto se devo puntare un euro sbilanciandomi dico Scamacca è uno sbilanciarsi e poi in caso di mancata Champions come faremo rinforzare la rosa e questa sarebbe una vera sciagura questo sarebbe un vero problema perché se tu fai la Champions hai anche una quarantina di milioni che poi è il budget se non hai la Champions lì sono cavoli amari e al momento non voglio neanche prendere in considerazione questa ipotesi sul campo siamo già quinti persi troppi punti con le piccole atteggiamento presuntuoso sotto gamba il mister in quanto in questo influisce quasi riscritto non è l'Europa League se non si cambia passo dice Mattia più facile forse vincere la Champions no dai magari facciamo entrambe chissà quante possibilità ci sono che Milano lasci a casa Pioli l'anno che verrà se resta Maldini 0% Rebic e Orighi potrebbero essere sostituiti con Maldini e Colombo e con un altro Maldini che puoi fare plus valenza con Maldini non tanto però mettendo tutto insieme così potremmo riscattare Diaz e comprare Milenco Vilsavici per un centrale affidabile se vanno via Rebic e Orighi sostituisci con Maldini e Colombo Maldini e Rebic sono anche un po' diversi no mi sembra un po' troppo e magari uno dei due si magari ecco sostituisce Orighi con Colombo Orighi e Colombo diventa il terzo e non spendi per sostituire quindi Orighi e quello che incassi tutta plus valenza che destini altrove destini altrove prendi la punta in prestito potresti avere ecco a costo zero l'anno prossimo potresti avere Scamacca Giroux e Colombo linea batteria dei nove a me non sembra male perché poi puoi spendere per tutto il resto poi un'altra cosa se vendi Leao hai tante risorse ma spero e credo di no quanto stiamo penando per essere addirittura sotto la Roma hai ragione lo penso anche come facciamo a essere sotto la Roma questa la Roma per me è una squadraccia poi bisogna comprare le seconde linee dice Stefano vedendo le ultime partite l'obiettivo numero uno deve essere a parte l'attaccante Milenco Vilsavici è fattibile su 30-35 milioni ecco veniamo alla situazione Milenco Vilsavici Milenco Vilsavici costa 40 va bene estate perché non rinnova il contratto scadenza 2024 se c'è una possibilità di arrivare a Milenco Vilsavici e qualche rumor sinceramente lo abbiamo registrato non è un bah parliamo di Milenco Vilsavici e basta qualcosina si è orecchiato ragionando insieme a voce alta l'unica possibilità di arrivare a Milenco Vilsavici una possibilità c'è deve passare attraverso la cessione di De Ketelare ieri vi dicevo De Ketelare e Litz lo vuole se tu vendi De Ketelare rischiando che magari poi esploda altrove e ti mangi le mani a quel punto puoi arrivare a Milenco Vilsavici rispondendo anche alla domanda iniziale Milenco Vilsavici ha un costo di 40 che è poco più di quello che abbiamo pagato in estate De Ketelare Milenco Vilsavici nel frattempo a oggi non ha avuto grande mercato all'estero se ci pensate non è che c'è stata grande bagarre il vero estimatore il più grande estimatore di Milenco Vilsavici era la Juventus che però al momento sembra avere anche situazioni diverse qualcuno ha scritto il problema di ingaggio? no lui prende 3,2 milioni di euro che con un aumento puoi portare tranquillamente a secondo me a 4,5 barra 5 se a maggior ragione si tagli magari l'ingaggio anche di Origi lui potrebbe essere quello che non è riuscito a essere De Ketelare cioè il centrocampista aggiunto per me ragazzi sarebbe il top non dico che non c'è nulla non dico che c'è una trattativa però da una decina di giorni qualcosina ogni tanto accostato al Milan se ne parla e se ne sente parlare ci potrebbe essere soltanto un piano cessioni di De Ketelare se il Leeds arriva davvero con 28 a quel punto gli giri la Lazio potresti magari aggiungere anche Rebic e un piccolo conguaglio e ti porti a casa un giocatore secondo me straordinario che ti cambia la vita ditemi che cosa ne pensate forza Milano oggi più che mai domani ancora di più scatenatevi con i commenti iscrivetevi qui se sei un cuore rosso nero se ti fimina ne speri una vittoria a Milano stasera iscriviti qui è gratuito attiva la campanella ti dico benvenuto chi non si iscrive ti fa Napoli ragazzi oggi fatevi vedere che siete cuore rosso neri e più tardi ovviamente tutto sulla gara di stasera un abbraccio grazie